di due centimetri il vecchio primato di Barella. Il meeting di Formia ha pure regalato il rientro ufficiale di Sara Simeoni dieci mesi dopo l'argento olimpico di Los Angeles. La Simeoni ha dimostrato di essere sulla via del perfetto recupero imponendosi con la misura di un metro e 92. Da segnalare nelle altre competizioni la prova di Andrei nel peso con 21 metri e 38.